Eravamo allineati in quello che dovevamo fare, chiaramente c'è soddisfazione, poi nei due tempi credo abbiamo costruito tanto, chiaro nel finale probabilmente abbiamo avuto qualche difficoltà anche se abbiamo avuto anche quello di Rauti, chiaramente ci è mancato un po' di forza nelle transizioni, quindi ci siamo abbassati ma più che altro siamo rifaciti un pochino poco, però credo che nel complesso una squadra come il Milan è lasciata qualche occasione nel finale in cui ci può stare.